Libri, libri, cazziardi di libri, oggi di cosa parliamo? Giusto appunto di libri e vi faccio una breve panoramica delle ultime cose che ho letto e di cosa ne penso in fondo. Questo canale si chiama Libri di Sangue. Dicevamo libri, libri, cazziardi di libri, ho recuperato un po' di materiale che avevo lasciato indietro, ma tra le vacanze in corso, gli impegni di lavoro, nuovi impegni entusiasmanti di lavoro, il tempo non è stato certo tanto. Perciò ho cercato di ritagliarmi il più tempo possibile, ovviamente nella sera, anzi nel tardo della sera, per leggere il più possibile e potervi consigliare o sconsigliare qualcosa che ritengo interessante. Stiamo parlando di uno, due, tre, quattro, cinque testi che insieme non raggiungono, secondo me, neanche le 600 pagine che mi hanno tenuto compagnia. Partiamo dal primo? Partiamo dal primo, ovvero sia Leviathan di Tim Curran. Allora, Tim Curran è uno di cui si è parlato parecchio, parecchio, parecchio. In Italia era pubblicato fino a pochi anni fa dalla Danwich, che ora ha chiuso ai battenti. Per un periodo è stato, diciamo, importato in Italia un po' da Amazon direttamente, con delle stampe You Can Print, un po' dalla saga edizioni che ha fatto sia Hive 1 che Hive 2, che sarebbero il proseguio alle montagne della follia di Lovecraft. Questa è una novella inedita che ci viene portata in Italia per la prima volta da Independent Legions Publishing. Leviathan, allora, com'è come non è una novella? Stiamo parlando di scarse, guardate, nemmeno di cento pagine di lettura. Di che si tratta? È Tim Curran, il clone di Lovecraft. Punto. Autenticamente il clone di Lovecraft. Ci troviamo nella solita isola e chissà dove con i soliti mostri. Nel senso più che mostri, come per Lovecraft, queste mostruosità che fanno parte di memorie antiche del mondo andate perse. Né di più né di meno. Se qua c'era scritto novella di H.P. Lovecraft era la stessa identica cosa. Mi è piaciuta o non mi è piaciuta? È senza pretese, ci mancherebbe altro. A me però è piaciuta, perché Tim Curran sa scrivere. Non vi aspettate niente di straordinario, non vi aspettate chissà che soluzioni stilistiche o chissà che colpi di scena. È un classicone pur essendo appena arrivato. Di quelli lì che se ti piace un certo tipo di orrore, se ti piace un certo tipo di fantastiche, soprattutto ripeto, se ti piace Lovecraft non puoi non leggere. Si inizia e si finisce in un'oretta, un'oretta e mezza, se puoi leggere liberamente senza distrazione e senza pensieri. Poi il prezzo comunque è basso, siamo sotto i 15 euro. C'è se ma pure sta. Datevi una letta solo però se amate un certo tipo di atmosfere. Ma andiamo avanti. Un secondo solo, me ne approfitto per intrufolarmi in questo ventaglio di libri per ricordarvi che è disponibile in tutte le librerie store online il mio giallo a Tintenoir che indaga sui misteri di Aleister Crowley e il periodo in cui ha vissuto a Cefalù. Vi lascio nelle descrizioni il link Amazon, sto parlando di Mr. Crowley, le cronache di Cefalù. Cambiamo completamente genere e passiamo a San Pietrini di Luca Bottari, uscito per Efesto Edizioni. Questa è una raccolta di racconti di questo scrittore romano che vi posso già descrivere anche solo leggendo le prime tre righe della quarta, ovvero sia il filluge che lega questi racconti e relativa alle grandi tematiche universalmente di battute, in latitudine ed epoche diverse, la vita, l'amore, la fortuna e la disgrazia. Luca ci porta in tutta una serie di mondi che io sento molto miei, non solo perché è mio coetaneo, ma soprattutto perché in alcuni momenti sembra quasi che l'autore ci voglia mostrare in modo velato delle storie che sanno molto di autobiografico. Di tutto quello che lui racconta, la vita, l'amore, la fortuna e la disgrazia, diciamo che l'opera vive in un continuo, diciamo, appeal che tende verso il drammatico. È scritto benissimo e ti tocca dentro, ecco, San Pietrini è un'opera che ti tocca dentro, tocca delle corde emozionali che sinceramente poche opere simili a queste riescono a raggiungere. Se cercate qualcosa di tremendamente reale e tremendamente intimo, San Pietrini non potete lasciarvelo sfuggire. Ma andiamo al prossimo. Quanti di noi sono legati al caro vecchio fumetto che trovavi dal barbiere fino agli anni ottante e primissimi anni novanta. Il fumetto con tanto sesso, tanta porcaggine e soprattutto tanta pornosità. Però era un fumetto che si, diciamo, dava, cercava di costruirsi una sorta di presentabilità attraverso un'iconografia immaginifica che fosse il più vicino, riconducibile alle storielle più innocenti. In questo caso vi sto parlando, uscito per Catap, curato da Davide Barsi di Eros in Fabula, l'irripetibile stagione delle fiabbe erotiche a fumetti. Ora, guardate già la quarta e capite. Già vi ho parlato sempre per Catap di fumetti erotici in quanto tali. In questo caso parliamo delle fiabbe erotiche e vi garantisco che di erotico, come potete notare anche da qualche immaginetta, c'è molto poco, c'è molto fiabo porno. È un saggio che ti riporta in tempi passati che per chi li ha vissuti come me è un amarcordo, ma per chi come voi, magari tra i più giovani, non sa di cosa sto parlando, può essere qualcosa di straordinario. Io vi invito a vedere pure la bellezza della copertina, filo di tette ovunque che fanno sempre piacere. Diciamo che è uno di quei fumetti che ti fanno rimpiangere i tempi in cui gli uomini erano uomini, le donne erano donne e i metallari stavano quasi tutti a Londra. Ma andiamo al prossimo titolo. Di Daniele Mattei, Sconfessioni, uscito per GOG. Se qualcuno mi chiedesse di cosa si tratta, forse non saprei rispondere. È narrativa? Ni. È poesia? Ni. Io preferisco definirlo un'opera post-punk. Sconfessioni già dice tanto, uscito per GOG Edizioni. Di cosa si tratta? Daniele Mattei, che è l'autore anche di quel capolavoro che fu Guerra, uscito per Dottor Sacks nel 2018, se non mi ricordo male, o 2017, perdonami la memoria, può non aiutarmi, è un maniacale della scrittura. E lo possiamo definire veramente il reazionario della cultura letteraria e della poesia. Qua dentro c'è di tutto, ma veramente c'è di tutto. Innanzitutto, per quello che riguarda la prosa, la prosa è musicale da morire, ricorda tantissimo, ed è raro che io possa dire una cosa del genere, il miglior Céline. Tutto in quest'opera è maniacale, è ritmato, è armonizzato, sembra uno spartito. Le storie invece che vengono raccontate, perché in realtà sconfessioni è una raccolta di storie che però sono scritte come se fossero dei micropoemetti, ma senza rima, però con ritmo, è difficile da capire. Le storie sono storie ordinarie, suburbane, che vanno dalla politica ai problemi sociali, alla solitudine, alla disperazione, alla droga, alla morte, a momenti di finta gioia. E vi farei notare che è così maniacale che anche l'impaginato dell'opera è stato lavorato in modo che fosse praticamente aritmeticamente precisissima e impeccabile. Bellissimo anche il colore della copertina, bello, a me piace questo viola, un viola quasi funerio che già vi fa capire quali sono le corde verso le quali tende. Non è però un'opera oscura e triste, è un'opera che nella sua drammaticità e nella sua ultraviolenza tende a una sorta di gioia, una gioia malata, una gioia visionaria, ma questo è. Fatelo vostro. E ora andiamo all'ultimo titolo. Arriva finalmente in Italia, John Skip, Don't Push This Button. Allora, che vi devo dire? È una raccolta di racconti del padre dello Splatterpunk, anche penna di tutto rispetto, del New York Times. Per farvi capire, pagina, me lo ricordo, mi sono segnato, pagina 173, pensate quanto sono diffissa. Per farvi capire il tenore di questi racconti, ora ve lo leggo per chi non lo vedesse. Questo racconto si intitola L'uomo più stronzo del mondo, una favola di Natale. Ora, voi prendete tutto ciò che c'è di più violento nella società americana, prendete tutto ciò che di più estremo avete visto al cinema o letto in qualche libro di serie C scritto da un ubriacone, o prendete tutte le ispirazioni più brutali di Edward Lee, le concentrate qua dentro e avrete Don't Push The Button, capolavoro della letteratura estrema. Splatterpunk? No, sarebbe riduttivo. Andiamo molto oltre. E noi ci vediamo alla prossima.